Nonostante uno 0-0 casalingo tutto sommato deludente ottenuto lo scorso fine settimana contro il non trascendentale Realmeda, partita alla quale si riferiscono le immagini, il CF Alto Adige non molla la prima posizione nella classifica del campionato di serie B femminile con due punti di vantaggio sul Valpolicella, squadra quella veneta, che nell'ultimo turno si è imposta per 6-0 sull'Unterland Damen della bassa tesina. Per completezza non sono andate bene nell'ultima giornata neanche le ragazze del Brixen battute a domicilio dalle Trentine dell'Azzurra con il punteggio di 2-1 da segnalare le dimissioni del mister delle Prissinesi Fabio Pelanda. Tornando al CF Suturl pareggio a reti bianche che, come si diceva, può essere definito deludente anche a fronte delle numerose occasioni non sfruttate, soprattutto nel primo tempo, dalle varie Pasqualini e dalla Giacoma. Anche le ospiti lombarde si sono fatte vive dalle parti della portiere Waldsholger senza esito, tutto nel primo tempo. La ripresa invece non ha riservato spunti di rilievo. Ciò nonostante in casa CF Alto Adige è soddisfazione piena per la leadership in graduatoria. Noi siamo felici di essere lassù, vogliamo fare ogni domenica al massimo per continuare a starci e per finire in testa. Gli avversari sono veramente toste, nulla è scontato, dobbiamo proseguire con umiltà e con la testa bassa per lavorare e guadagnarci tre punti ogni partita. Intanto si guarda già al prossimo avversario. Nel fine settimana l'11 Biancorosso sarà ospite del Tradate Abbiate. È un'altra squadra che è molto insidiosa. Giocano su un campo che in inverno è pesante, quindi bisognerà valutare anche questa cosa. Sicuramente in casa il Tradate è una squadra molto ostica. Noi, se non sbaglio, abbiamo una tradizione buona sul campo e cercheremo comunque di mantenere questa tradizione. Non sarà facile sicuramente, però andiamo là a giocare la nostra partita.